Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Yo-Kai Watch Jam Oggi, missione importantissima, entriamo nel labirinto di El Zemechia La missione che ci attende è questa qui Ovviamente per fare la missione bisogna venirci di giorno Io mi pare prima non riuscivo a farla perché erano quasi le 8 Che era l'orario in cui in genere il gioco cambia giorno nel gioco appunto E quindi non potevo farlo All'ogni modo, entriamo, vediamo che cosa ci riserva questa missione fantastica Ovviamente io vado subito in Henshin modo perché sennò ragazzi non finiamo più Che poi va piano, Jibbe Jibbe Jibbe, non ho capito perché va piano Oh ma, ma che cos'è, Haku Man? Haku Man dei poveri? Sì, a quanto pare dei poveri Ma perché sti mostri coci strani qua? Ehi, di Stormtrooper, wow Wow, siete proprio felici di vedermi Va bene, va bene, va bene Oh, anche la loro medaglia, ottimo Però picchiano questi, eh Questi sono gli unici Stormtrooper che riescono a prendere i nemici Ma perché i nemici insignificanti ci fanno affrontare? Ah, devo affrontare tutti i nemici Eh, vabbè, come la piramide Non ho capito perché abbiano impostato questa difficoltà relativa Ah, è le cheerleader, certo Abbiamo, oh mio Dio, quanta salute ho perso Ma chi è? Quanta salute ho perso, come ho fatto? C'erano le cheerleader che mi incitavano, ma ho perso la salute No, oh, oh, oi, oi, oi Mangia, 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 mangia Fino a quando non ti carichi Ora Mamma mia che botte che ci ho preso perché sto da solo Che vu tu? Via Ok Mo' arrivate Quando la festa è finita Bravi, complimenti Ma non stavano affrontando gli altri, lo so Poi nei commenti a Mondralink stavano affrontando gli altri Ok, e lì ci si arriva, ma Eh sì, vabbè Il castello incandato questo, eh Ma dai Però altri lo dicono seriamente Ed è quello che mi urta Che alcuni seriamente lo dicono Però andiamo avanti Un'altra stanza mi sa che c'è Poi c'è la regina Oh sì, vabbè Sì, sì, sì Dai, dai, dai Dai Dai, Kiraboshi Labyrinth Che poi non è un labirinto perché ci ritroviamo perfettamente Oh, arriva? Ci siamo, ci siamo Un po' di oggetti raccogliamo Lutiamo tutto Eccola qua Oh no Eccoli, sono arrivati Sì, me ne ero un po' accorto, sai Nello scorso episodio, se vi ricordate Ci siamo opposti O meglio, Ranto si è opposto Al fatto di doversi arrendere Perché Elna gli fa Dai, arrenditi Così Lasci il controllo a noi alieni E lui No, io difenderò la terra a tutti i costi E quindi lei ha detto Fai così, vabbè, non ci penso io Eccola qui Ah, però non penso che però possa lottare in quelle condizioni Sembra troppo gracilina Ma perché Mataro, poverino Che non c'entra nulla È stato invischiato in questa storia per il nostro egoismo Ah, ci affronta così allora? Oh Va bene Forse il fatto che Gracilina è solo un'apparenza Beh, sì Ci sta prendendo le botte Ma vabbè Uiii Ah, ok, ok Ecco, qui dovevamo colpirla ora Mentre si caricava Mamma mia Che attacco poteroso È pericolosa questa, ragazzi Praticamente bisogna colpirla Quando si sta caricando l'attacco più forte Che la stortiamo Allora aspetto che mi carico l'attacco più potente Eh, però anche lei mi fa male Ok, non so dove l'ha fatto Verso di là Eh, vabbè, però Allora sei tu proprio il Zemechia, eh Eh, vabbè Ma io non è che posso venire a cercarmeli, però Sei tu che me le fai venire a prendere le botte Eh, non mi dai nessun preavviso Neanche Oioi Ok, l'ha revitalizzato bene Oh, Memorial Jump Che però non le fa nulla Cioè, ragazzi Lei picchia da far paura Mamma mia Quanto mena Devo caricare presto gli attacchi Su Cos'era quello? Oh, però Però Eh, sì Cosa? Come mi ho fatto male? Me l'ha rispinto praticamente Mi è un po' qua Oh, ma Io non lo so, ragazzi Mi ha respinto l'attacco Mi ha fatto consumare tutto Mamma mia Che dolore Non ho più gli oggetti Accidenti Però pare che è finita No La missione non si è conclusa Questa è la seconda fase, vero? Uh, è Mazera Eh, sì Questo è un discorso importante Quelli che ti sono d'intraccio Dovrebbero essere eliminati Aspetta, non è che intende Shinobu Ah Oh Ma quindi è il Zemechia Ha solo preso il corpo di Elna Tra l'altro Mazera ha detto a El Zemechia Non dimenticare che il tuo impero è nelle mie mani Quindi è Mazera che sta fornendo a El Zemechia La forza di Di governare, insomma Di Kiraboshi Di formare Kiraboshi L'impero Kiraboshi E non di liberarsi di Shinobu Ma forse della parte terrena Anche se ha detto Liberati di loro Forse Forse Elna era un intraccio Che non la faceva Sprigionare il vero potenziale Eccola va Questa è la vera forma Allora Io non ho più oggetti per curarmi E' un peccato E' un peccato E' la Peppa Eh ma Zodia Kraia Zodia Raia Ma è legale sta cosa Si può fare? Si può fare sta cosa Va bene? E lei picchia pure Cioè non è che Te le manda a D Picchia picchia Cioè eliminare queste qui E' facile Anche fosse Ma Oh però Attenzione Oh che bomba Il raggio Che ha lei di azione E ovviamente colpiscono a me Certo Potevano colpire qualcun altro No Colpiscono Andre Link Ovvio Eh ovviamente Non sono più carico Mi serviva da tornare umano Prima comunque Quando l'ho detto Eh non adesso Ma lei sta subendo qualche danno Pochi Perché ovviamente Beh figuriamoci Se può subire danni Lei Uh Seconda possibility Eeeh Che cos'era Toh beccatevi questo Ma io non so Se si sta facendo male Lei effettivamente Con sti cosi Tipo che ne so Se ne sconfigge un certo numero Scompare Lei Non lo so Non ne ho idea ragazzi Io qua Non ci sto capendo molto Ma lei ogni volta Sforna copie più forti Di lei Quindi Può essere che Sconfiggendo un certo numero Di copie Lei possa poi Far Cioè Subire qualche danno Collaterale Non lo so Non credo Perché non sta subendo danni No vabbè ragazzi Con gli oggetti Con gli oggetti Ce la farei Ma senza Proprio Mi rimane molto difficile Molto difficile Senza oggetti O mi alleno E salgo tipo A livello 300 Perché se no Ragazzi Mi rimane difficile Senza Proprio Si vede Non è che Oh cavolo Con l'attacco strano Eh vabbè però Oh ragazzi Ragazzi Piano piano Però scappiamo Ora scappiamo Ritirata strategica Proprio giusto Tanto per Ecco Fatevi prendere Voi giustamente Come gli idioti Che siete Qui Qui Venite qui Venite qui Venite qui E ora Si colpisce Ecco Vai Vedi come si fa Tanto facile È diventata Sta lotta A un certo punto Ho trovato Il loophole E via La lotta È diventata Una caghetta Ok Ci vorrà un po' Perché posso usare Solo l'attacco più forte Per fare davvero male E prendere tutti In questa maniera Però Ah Comunque sia Si difende lo stesso E vabbè È quasi giusto Direi Oh no Però ragazzi Sta funzionando Cioè io Dico Vabbè Non funzionerà A lungo Invece no Venire qui Funziona Venire qui Funziona Ho la vita carica Ma non posso andare Nella mischia Come faccio di solito Perché non ho oggetti Purtroppo è un po' Una seccatura Non poter farlo Ma Ok Posso colpirla Piano 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 Eccola qua Ah Scappa Ah Scappa però Memorial Jump Ti fermi In mezzo alla strada Non lo so Sì 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 No No Mò me la gioco safe Me la gioco Me la gioco talmente safe Che più safe Non si può Le vado vicino E le sparo nel muso Cos'è? Oh yes Yes Push baby Push Push È fatta raga È fatta Prendiamo tutto quello che ci rimane Poi Veloci Veloci Punti esperienza anche Soprattutto Che ci servono Un solo livello Sono salito Uno o due livelli Mi ritrasformo proprio Per il gusto di farlo Guarda Perché lo faccio Ebbene Finisce così Ah 63.000 punti esperienza Non sono pochi Questi sono buoni Uh ragazzi Che esperienza Che esperienza Shinobu Però continuano a chiamarla Erna A questo punto Che succede? Lei ha fallito E Ah Ecco Mi sa che Mazerasama Non la prenderà bene Che stiano Cercando Un Di tornare Al Nel loro Sul loro pianeta Forse stanno cercando Una nuova casa Qualcosa del genere No vuole ucciderla No vuole ucciderla Un piano Cioè Ok che è cattiva Ma L'abbiamo sconfitta Quindi In teoria Lei non può più farci del male Giusto? Il pianeta di Elzemekia Si chiama Si chiama Cori E da un pianeta Ricoperto dal ghiaccio Lei è la regina Delle nevi Ah E combatteva Gli alieni Proprio come Stiamo facendo appunto Noi Però se si è unita A Mazzara Un motivo ci sarà Ah perché L'ha controllata E certo Ovvio no Quindi Mazzara Voleva Mazzara o sta cercando Di conquistare Quanti più pianeti Possibili Perché appunto Ha ispirato a Magellano Oppure Perché effettivamente Si sta circondando Di personale Chiamiamolo così Di uomini Fidati Per andare a colonizzare La terra In particolare Perché comunque ragazzi Io vi ricordo che l'anime Non l'ho visto Interessava relativamente Eh sì Perché praticamente Lei Decide di servirlo In cambio Lui non distrugge Il pianeta Però ha fallito Quindi ora Eh che succede Che sta uccidendo Ah Uh Ah forse Mazzara Stava cercando Di farla esplodere Cavoli Quindi effettivamente C'era il motivo Per cui lei Faceva quello che faceva Ma allora Lei voleva Istituire Kiraboshi Per conto di Mazzara E' un peccato E' un peccato Ma Shinobu Cioè lui Non è sotto il controllo Di Di Elze A questo punto Si chiama Elze Forse Forse Che cosa è Che cosa è Quella che roba è Titas Han Tita Il corpo Di Di Mazzara Cioè È la forma Di Mazzara Cosa È un buco nero Ah Mangiatore di stelle Hoshiku Ma Giusto Giusto Mangiatore di stelle Hoshiku Il mangia stelle Ma Mangia pianeti Ma È tipo Questo è tipo Galactus Cioè Ma vabbè Non possiamo perdere Era ovvio Che ci fossero palesi Riferimenti A tutte queste figure Però Ah Salve Il divoratore Di pianeti Bene 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 Ma chi è Riegel Però Senza Senza numero Solo Riegel Se non sbaglio Riegel È La stella Più Luminosa Della Costellazione Di Orione O così Dice Wikipedia Poi non lo so Sinceramente Del loro discorso Me ne frega Relativamente Poco Perché Che poi potrei Leggermelo Anche in post Produzione E poi dirvi Le informazioni Più soccose Ma Quello che Quello che sappiamo Per certo È che vogliono Conquistare la terra A questo punto E Elze Non è che si è Sacrificata Cioè Si ha detto Arranto Uccidimi Perché sennò Qua scoppia tutto Quindi Ma quindi C'è un buco Nero Che si sta Avvicinando Hakaia 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 Una specie Di nuovo Ah ok Sennò Grazie per la visione! Dunque, stavo per dire, mi ricorda una scena di un certo film, Independence Day Questi qua si disperano, ma fino ad ora, cosa abbiamo fatto noi ragazzi? Abbiamo affrontato tutti quanti i boss che ci separavano davanti Quindi l'unica cosa da fare è affrontare anche Mazera Cioè, è solo un pelo più grosso Ma sul serio? Cioè, è solo un pelo più grosso, dicevo, Mazera, degli altri cattivi Cioè, loro sanno chi è lui? Ah, quindi è tipo una specie di saggio? Lo conoscono Ok Quindi è qui per salvare la situazione? Noi sappiamo che... Ah sì, praticamente è un saggio, però ha gli orecchi a punta e nessuno si fa domande Ovviamente il presidente e Zazel stanno d'accordo perché... Perché c'è Emma, loro sanno chi è Emma, sanno chi è Emma Shunsuke è il nome, Enmadai è il cognome Il grande è Emma Shunsuke Bene Funziona Però sì, lui effettivamente è Emma il grande Cioè, non è che si nasconde più di tanto Anche perché se una persona andasse in giro normalmente con un colorito del genere Io mi farei qualche domanda Ah, c'è un terzo Y-Circle Che non abbiamo mai scoperto effettivamente perché ne veniamo a conoscenza solo ora Quindi con quel terzo Y-Circle dovremmo essere in grado di fermare... Ehm... Mazera Perfetto, allora non vedo l'ora Ragazzi, nel prossimo episodio allora Andremo a scoprire questo terzo Y-Circle anche chiamato Supa Y Però dobbiamo anche andare a mangiare Perché se no a stomaco vuoto questi qui non si sa perché non rendono bene La piramide e il terzo Y-Circle Il secondo e il primo Ah, la piramide e il terzo, quindi? Va bene, va bene Dobbiamo recuperare questi tre libri Che sono tutti quanti con lo stesso nome ma hanno... Sono praticamente lo stesso libro, la stessa collana ma vanno avanti È tipo una storia che va avanti E sono missioni piuttosto particolari, difficilotte Vabbè, comunque se le faremo nel prossimo episodio Ragazzi Da paura Davvero da paura Che dire, l'episodio finisce qui raga Davvero davvero stimolante Mi è piaciuto molto Ad ogni modo Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video Shoutout dal YouTube Start Game E ho già spiegato tante volte perché In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre al prossimo video Bye 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 Grazie.